L'editoro, nuova diventazione sportiva dell'Audace Ceregnola, con che spirito si prepara questa nuova avventura? Spirito sempre positivo, nuova avventura, società importante, ambiziosa, che voglia di fare bene, per cui questa ondata di entusiasmo che chiaramente ha la proprietà, che ha tutto quello che si è fatto fino adesso, è visibile, è tangibile, per cui mi ha già contagiato. Chiaramente adesso c'è da riflettere bene su come operare e di seguire questa scia di crescita e di entusiasmo per migliorare sempre di più. Lei conosce bene il territorio, è stato diretto rispettivo di molte squadre della Capitanata, si punterà su giovani o comunque calciatori del territorio oppure si guarda anche fuori dalla provincia? Cercheremo di fare il possibile per ottimizzare quello che offre il territorio e di integrare con sicuramente delle possibilità da fuori, perché chiaramente creare un mix che possa dare un segnale sempre di crescita, di miglioramento, sembra ben venga. Saranno scelte oculate? Saranno scelte, adesso oculate lo vedremo successivamente. Successivamente, cercheremo di fare il possibile per dare al mister un organico all'altezza e che possa esprimere le sue qualità e che possa dare identità precisa a una squadra che dovrà lottare su ogni campo per portare a casa il territorio. A prescindere dalla categoria A. A presto! A presto!